Ehi! Ciao! Aspettiamo Altea! Ciao! Come state? Bene, ieri mi sono quasi rotto un braccio cadendo, però non è successo niente. Beh, magari se evitiamo di svenire ogni volta, siamo anche più sane. Esatto. Dai, ho capito, non far quella faccia. Il festival è tra pochissimi giorni. Noi siamo ancora qua che non abbiamo scelto un argomento. C'è qualcosa da più fare? Dai, è vero, è vero. Chiara ragione, su. Allora, qualche proposta interessante vi è venuta in questo, in questo frattempo. Sì, grazie a Altea. Potremmo parlare della contaminazione batterica dei cibi. Io penso che sia inutile, ma perché tutti, e dico tutti, mangiano il cibo da terra? Nel senso, da 5 secondi si stè per questo e non è un tema che alla gente interessa. Ok, chissene, lo faranno comunque. Piuttosto parliamo dell'inquinamento urbano, che quello non se ne parla, visto che delle plastiche eri super... No, ne parlano tutti. Tutto bene? Tutto bene. Ho solo ingoiato il giungo. Oddio. Io ho spiancato. No, non muoio. Vado solo a bere un vittorino d'acqua e ci sono. Forse dovrebbe andare da un medico. Ma va, una gomma da masticare, sapessi quanto neanche il giungo. Quanto meglio. Cioè, c'è stato un periodo della mia vita in cui, invece di, che ne so, andare a buttare, mi seccava a alzarmi, le ingogliavo. Fine. Ma, scusa. Cioè, le gomme da masticare sono fatte con una gomma a base di una gomma artificiale che si chiama polisobutilene. E ci sono anche altri componenti che non sono digeribili. Cioè, non abbiamo gli enzimi per digerirle. Quindi, cioè, la gomma da masticare resta lì e poi c'è il rischio che ci siano le altre cose che si incastrano dentro e fa tipo tappo. Cioè, è pericolosissimo. No, non funziona così. Non è che sta lì, ristagna, ti fa la muffa. Semplicemente, ok, è vero, non la digeriamo, ma come entra, esce, la spegliamo. Fine. E sopravviverai al tema. Ma non pare, mi stavo già iniziando a preoccupare, devo dire. Io? Non mi sembra molto convinta. No, ma... Io provo a chiamare un medico per sicurezza. No, ma vi assicuro. Cioè, la gomma da masticare finisce lì. Ma dici? Sì. Va bene. Va bene, ti credo. Dopotutto sei viva dopo. Sì? C'è il gatto che sta per buttare una cosa. Ascoltateci, possiamo sentire un'altra volta che devo andare a recuperarla? Ci entriamo domani, stessa ora? Ehi! Dai, va bene, ok, domani. Vabbè. Ciao ragazzi, scusate. Ciao, ciao, ciao. Bionaute, viaggiamo nella scienza con voi.